buongiorno e buon mercoledì a voi mentre buon lunedì a me oggi per me è lunedì lunedì mattina in realtà è già mezzogiorno quindi inizio a filmare un pochino tardi però sapete che io non inizio mai comunque a filmare molto presto io mi sono già comunque cambiata mi sono tolta il pigiama in realtà ho anche già avviato una lavatrice di asciugamani quindi ho lavato tutta tutta la biancheria di asciugamani e anche qualche panno della cucina inserisco tutto insieme e faccio partire la lavatrice dedicata appunto a questo genere di biancheria ma poi siccome in questo weekend non ho cambiato le lenzuola lo faremo oggi quindi appunto devo fare anche questa cosina oggi diciamo che non riesco bene a capire che tipo di giornata ci sia ma non è molto molto bella quindi io vedo parecchia nebbia quindi una giornata un po grigia però comunque è anche luminosa infatti ogni volta non riesco a capire come mai e adesso visto che nello scorso video mi sono dimenticata vi faccio vedere la nuova piantina anche se secondo me l'avete intravista non apro la finestra perché questa piantina qui questo fiorellino attira un sacco di api infatti qua dietro c'è una petta quindi evito di aprire anche perché ho fatto arieggiare per bene la casa questa mattina però quando chiudo le finestre mi piace sempre tirare sulla zanzariera così entra più luce in casa e quindi questa è la nuova piantina non mi ricordo come si chiama quindi chi lo sa magari lo può scrivere qua giù comunque l'abbiamo presa al mercato io e mia mamma pagata semplicemente un euro guardate un po che carina ora vado a cambiare le lenzuola quindi le vado a togliere passerò anche il daison perché comunque lo faccio sempre ogni volta che appunto cambio le lenzuola vado a passare il daison e poi vado a passare il daison anche su tutti i pavimenti della casa quindi facciamo queste cosine insieme e poi sicuramente voi in questo video vedrete anche una mini spesa perché devo andare a fare la spesa ma non so se andrò oggi oppure domani ma tanto siccome ho intenzione di bloggare per due giorni per farvi vedere qualche contenuto in più per voi appunto non cambierà nulla e quindi vedrete anche la spesa anche se io in questo momento non so se andarci oggi o domani ma adesso andiamo a fare queste cosine in giro per casa e in più devo anche svuotare un asciugatrice che è bella bella piena di pagni perché essendo una 9 kg io tendo sempre a fare due o tre lavatrici poi vado ad avviare l'asciugatrice una volta soltanto non baris la e che io a non o no 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 a fila calvo Grazie a tutti 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 Sono passate Grazie a tutti 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 su su Grazie a tutti